Ciao a tutti, sono Michael D'Inunzio, tecnico del settore orticolo presso l'Agenzia di Sperimentazione in Agricoltura con annesso centro di saggio. La protezione delle piante è convenzionale, integrata e biologica, con la finalità di preservare le culture da una serie di avversità biotiche ed abiotiche. Ogni formulato commerciale utilizzato per la protezione delle piante deve seguire un preciso iter registrativo che deve passare obbligatoriamente attraverso un centro di saggio accreditato. Come in questo caso siamo a Cesena, alle mie spalle vedete due prove sullo zucchino. È una prova registrativa, quindi stiamo applicando dei prodotti sperimentali con la finalità di registrare in etichetta la cultura. Questo è molto altro accompagnato da una costante innovazione tecnologica e sinonimo di protezione per le piante. Ciao, a presto.